stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l'adriatico a darne notizie col diretti impresa pesca in occasione dell'avvio del provvedimento per risparmiare le risorse del mare che scatta proprio in occasione dell'overshot day il giorno in cui l'uomo ha già utilizzato tutte le risorse naturali che la terra può rigenerare nell'intero 2019 il fermo pesca sottolinea col diretti bloccherà infatti le attività dei pescherecci per 30 giorni consecutivi dal 29 luglio fino al 27 agosto dal friuli venezia giulia al veneto all'emilia romagna fino a parte delle marche puglia fermo pesca che avviene in un periodo dell'anno particolare per i consumi questo fa sì che le importazioni aumentino in questo periodo le importazioni sono aumentate dal 27 per cento 80 per cento questo significa che un pesce su cinque come come dice col diretti è un pesce di importazione in un paese come l'italia che importa dall'estero otto pesci su dieci nei territori interessati dal fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio di ritrovarsi nel piatto prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco made in italy proveniente da altre zone dove non è nato il fermo col diretti esprime il proprio disagio nei confronti del ministero che dopo 35 anni ribadisce giardini il fermo pesca ha ottenuto pochissimi risultati attraverso questa formula è una formula che abbiamo visto debole che non riesce a sostenere le nostre imprese e che ha aperto il mercato alle importazioni abbiamo fatto delle proposte delle proposte di gestione del fermo tramite area di nursery e scelta individuale delle imprese del periodo di fermo in un arco temporale che va da giugno a settembre